Siamo qui all'interno dello stabilimento di Bologna dell'industria italiana autobus e in particolare siamo sulla linea di produzione del nostro autobus LNG. Ora siamo gli unici che possono offrire un autobus urbano che utilizza il gas metano liquido, che ha delle caratteristiche di eccellenza, che ci hanno spinto a sviluppare questo tipo di prodotto. Ne abbiamo consegnato un primo lotto alla TPR, quindi in Emilia Romagna e il vantaggio che abbiamo offerto al cliente nella versione a quattro bombe è di avere un'autonomia di 1000 km. Il prodotto in se stesso unisce una serie di elementi molto interessanti per i clienti, che sono una grande autonomia, una grande flessibilità, perché molti dei nostri clienti effettivamente hanno bisogno di fare lunghe percorrenze senza ricarica. Altri elementi che sono interessanti sono ovviamente l'ambiente. L'ambiente, il metano, sia quello che deriva dal fossile è sicuramente meno inquinante degli altri combustibili tradizionali, ma allo stesso tempo abbiamo anche la possibilità di utilizzare il biometano. Il veicolo è un veicolo completamente italiano, frutto dell'ingegneria italiana e della manifattura italiana. La scocca viene prodotta nello stabilimento nostro della Vellinese di Flumeri, che di per sé è uno dei più grossi stabilimenti d'Europa. Il veicolo è un veicolo estremamente flessibile e che i clienti apprezzano perché possono utilizzarlo sia nelle tratte urbane che suburbane. Dà una facilità enorme di accesso per le persone nelle tratte urbane, ma allo stesso tempo con le percorrenze lunghe è anche un veicolo idoneo a ricoprire lunghe tratte. Ovviamente offriamo il veicolo sia in classe 1 che in classe 2, quindi come un veicolo prettamente urbano o prettamente suburbano, offrendo nel secondo caso anche tutti i vari requisiti di sicurezza, dalle cinture di sicurezza e una maggiore velocità che sono richieste in queste tratte. I serbatoi sono posti sul tetto del veicolo, il che consente di avere una maggiore flessibilità e quindi consente di poterne allocare due o quattro. Poi vengono alimentate velocemente con un raccordo e quindi con un riempimento che avviene in tempi molto brevi. Tipere S.P.A. è un'azienda che eroga servizi di trasporto pubblico su gomma nei bacini di Bologna e di Ferrara. È un'azienda da 2.400 dipendenti con 1.200 autobus. Tipere eroga 42 milioni di chilometri vettura su gomma. L'ambiente dà delle opportunità alle aziende se soltanto se le aziende hanno delle strategie reali sul lungo periodo. Abbiamo cominciato nel 2016 anche la strategia in particolare per gli autobus interurbani del metano liquido. Questo non è stata una scelta casuale o un tentativo o un progetto pilota. Abbiamo applicato alla lettera le indicazioni della direttiva comunitaria 94-2014 su carburanti alternativi. Abbiamo effettuato le prime due gare, i primi due tender europei per autobus alimentati a metano liquido. Acquistando dei progetti, uno da Scania e uno da Industria Italiana Autobus, dei quali abbiamo due esemplari alle spalle. Il primo tender per autobus esturbani vinto da Scania era di 15 autobus. Questo secondo tender, che si è aggiudicato a Industria Italiana Autobus nel 2017, è stato quello per autobus cosiddetti metropolitani. Il motore dell'autobus a metano liquido è esattamente lo stesso motore dell'autobus a metano compresso. Non hanno bisogno delle verifiche periodiche alle quali invece sono soggetti i serbatoi del metano compresso. Per quello che riguarda i serbatoi dei nostri autobus a metano liquido, abbiamo sia serbatoi della Chart e sia serbatoi dell'HVM. Una realtà nazionale che ha collaborato con l'IA allo sviluppo di questi autobus. Noi chiaramente continueremo in futuro a fare gare per autobus esturbani e per autobus metropolitani e suburbani. Il progetto di Tipper è quello di implementare questa flotta in modo significativo, quindi sicuramente oltre i 100 autobus. Per noi tutti i tipi di trazione, elettrico, metano liquido, metano compresso, trazione ibrida, sono assolutamente, in futuro anche idrogeno, sono assolutamente paragonabili. Quindi per noi non esiste il conflitto. Si tratta di parlare di tempi di realizzazione e di disponibilità del mercato. Nel momento in cui abbiamo la possibilità di avere BOLNG, come noto da studi scientifici Superpartes, abbiamo nell'utilizzo nel well to wheel completo dal pozzo alla ruota una riduzione della CO2, non una minore emissione. E quindi riducono l'effetto serra anziché aumentarlo.